Tempo di bilanci per l'onda tv Sulmona Rugby che chiude il 2014 con l'ormai consueto appuntamento con il Chi c'è c'è, partita amichevole tra tutti i giocatori di rugby, dirigenti e simpatizzanti di questo sport, che si sono riuniti questa mattina nel campo dell'incorona da Sulmona. L'evento, giunto ormai al diciannovesimo anno, vede anche la partecipazione di giocatori provenienti da fuori regione. Ottimi risultati raggiunti quest'anno dalla squadra di Serie C del Sulmona, come ha affermato il presidente Mauro Ranalli. Con la Serie C stiamo andando oltre le previsioni, stiamo giocando per i play-off, domenica scorsa abbiamo perso 27-22 a Tortoreto disputando una buona gara con tutti i ragazzi, abbiamo un'età media intorno ai 20-21 anni e puntiamo a fare i play-off, quantomeno a fare un'esibifinale che dipende poi dagli incroci, che se rientrassero un po' alcuni giocatori che ci hanno lasciato per motivi di lavoro e di studio quest'anno, sicuramente possiamo vincere il campionato. Siamo posizionati bene in classifica, i ragazzi stanno venendo, adesso per quanto riguarda il 2015 dobbiamo rinforzare un po' quella che è l'attività del mini-regby dell'anno del 14. I ragazzi stanno arrivando sempre più numerosi e contiamo di chiudere l'anno con un numero. Al termine della partita ad attendere gli atleti l'immancabile terzo tempo. Sì, auguriamo a tutti i sportivi buon anno, buon 2015, che abbiano sempre migliori fortune, che superano i problemi economici e numerici di ragazzi che abbiamo un po' tutti. Noi siamo uniti, siamo abbastanza partecipi anche con le altre società e non ci fa che piacere se tutti quanti otterranno il meglio dalle loro attività.